L'aerodeputato del PD, Pino Arlacchi, è stato a Campobasso per partecipare ad un incontro sull'utilizzo dei fondi europei. Da parte dei paesi del Mezzogiorno, i finanziamenti comunitari non devono essere sprecati, ha detto. Basta spenderli i fondi e non farsi ritagliare e non tenerli nel cassetto per incapacità di spese e per incapacità di gestione. Questo è un grande problema che dobbiamo affrontare in modo radicale. Dobbiamo costruire, fare una legge per cui quando una regione non spende, secondo una tabella di marcia, i fondi europei, viene commissariata e la gestione dei fondi viene affidata direttamente ai comuni.